DG Photo Art, it's media, it's art. Questa sera mi è voluta trovare un amico. Cambiamo genere. Cambiamo genere, andiamo nella poesia. Ci tengo a dire due parole su questa persona perché anche lui ci organizza degli eventi, è un poeta di fama nazionale. Sì, è una persona talmente umile, ma ho qualcosa da chiederemo a lui. Basta il nome? Sì. Marcellino Adessano, eccolo qua. Ciao Marcellino, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera, sono anni, qualche volta vengo, qualche volta vengo, perché dovete sapere che lui vi avvira parete di mare e porti. Parete, sì, dove c'è di cinta. Forse con un po' io ho il centro commerciale, sono attaccato. Tra tanti eventi di poesia vi ho presentato. E nemmeno saldo l'ho incontrato. Sì, e difatti lui presentò... A Caprani, che è una chiesa bellissima, era la chiesa di San Francisco nel 1200, e presentammo il volume che ho pubblicato qualche anno fa, che è stato l'artifici di quella presentazione. E fu una bellissima... Io prendo la palla di palzo. Vai, voglio dire due parole, perché lei mi viene a trovare, come sempre, nel 2013. Mi stavo male ancora. Eh sì, vabbè. Vabbè. Con una bellissima poesia, non non diciere. Non non diciere. Non non diciere. Che musica Andrea Scarpati e cantò Tina Bonetti. Fu un bel momento, fu un bel momento. Io voglio, scusami, ringraziarvi, fare i complimenti per la location, il posto, per me fa facile stare con voi. Grazie. Non dico il nostro, avere un poeta di così, tale fama a livello nazionale. Angela, siccome tu scrivi tanto sull'amore, cos'è l'amore per te? L'amore è un sentimento nobile che è nel cuore di tutti, che a volte ci sembra talmente strano, talmente poetico che ognuno di noi cerca di prenderlo a suo modo. Ecco perché la poesia si intitola Sarà la luna, perché in effetti raccolta le tante sfumature di questo sentimento, che a volte non riusciamo a trovare quello giusto. E io in senso metaforico ho chiesto consiglio alla luna, questo corpo celeste che ci osserva, che forse ci conosce un po' tutti, perché ci guarda dall'altro, sta sempre lì, sa i nostri spostamenti, sa cosa facciamo e quindi chi meglio di lei può darci consigli, quindi la poesia si ispira proprio a questo sentimento. Prima che ci farei ascoltare la tua bella lirica, stai preparando qualche altra vita, perché comunque è un concorso importante. Al di là del concorso che lo facciamo ogni anno, quindi partecipano tantissimi artisti, autori, autrici, poeti e poetessi da Lut Italia e stiamo preparando una manifestazione un po' religiosa, le laude di San Francesco, la dovevamo fare a breve, però c'è Pasqua, quindi abbiamo preferito spostarla e quindi sarà una bella manifestazione, perché come sappiamo San Francesco è il produttore dei poeti, sarà una bella manifestazione. Allora, Marcellino, io ti lascio il produttore. Sì, sì. Sarà la luna Marcellino Arezzano. Grazie, grazie. Prendo un attimo il leccio, faccio da solo. Non ci preoccupare, grazie. Guarda, vai. Sarà la luna con i mille riflessi argentati a modellare le nostre emozioni. Sarà la luna con il suo eterno mutabile volto a rafforzare i nostri sentimenti. Sarà la luna con l'immortale e sublime eleganza a danzare la nostra passione. Sarà la luna con la sua silenziosa, saggia sapienza a guidare le nostre scelte di vita. Sarà la luna con il suo generoso, mutabile sorriso a consolidare le nostre attese speranze. Sarà la luna, coronata da chiare stelle, a illuminare le infinite sfumature dell'amore. Grazie. 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 Marcellino Arezzano, grazie per questo momento. Grazie.